Un ringraziamento particolare anche all'amministrazione. È stato il presidente del Parco Adda Sud, Silverio Gori, ad aprire l'incontro di presentazione dell'ultimo DVD dedicato agli uccelli presenti nell'area protetta. Nella sala consiglio del municipio di Montanazzo Lombardo si è parlato degli aironi tornati a popolare la fascia verde lungo il corso meridionale dell'Adda in tutte le loro specie. Dopo i saluti del sindaco Vittorio Gargioni, la parola è passata al consulente scientifico del Parco Riccardo Groppali, che ha rilevato il consistente aumento del numero degli aironi presenti tra l'udigiano cremonese. Non vengono più osteggiati dall'uomo ed hanno ripreso così a moltiplicarsi, ha osservato il consulente. Il DVD è stato il frutto del lavoro di Antonio Marchitelli, appassionato fotografo naturalista che ha potuto contare sull'apporto tecnico di Claudio De Micheli per il commento sonoro e di Francesco Rossetti per la voce narrante. Dopo il filmato dedicato agli aironi, il Parco Adassù dà in programma altri progetti informativi legati sia agli animali che alle essenze floreali presenti lungo il corso dell'Adda.